Il corpo di Nicola Lacorte è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Perrino di Brindisi, al suo seguito quello di Carmelo Cantoro. Di primo mattino quest'ultimo, 81enne, ha ucciso Lacorte, 53 anni, sparandogli per almeno quattro volte all'altezza del volto, per poi rivolgere il fucile anche contro se stesso, togliendosi la vita. È la prima ricostruzione dell'omicidio-suicidio avvenuto in Contrada Montescotano a Villa Castelli, nella provincia di Brindisi. Sarebbe legato a banali questioni di vicinato il movente, l'anziano a quanto pare lamentava che il più giovane con i suoi mezzi gli ostruisse l'uscita del garage. Qui si è consumato l'omicidio, all'esterno dell'abitazione, dove la corte, imprenditore edile, viveva da un anno con la sua famiglia, come ogni mattina stava caricando il furgoncino, preparandosi alla giornata di lavoro. Era tornato a Villa Castelli da pochi anni, dopo un periodo a Modena, per portare avanti l'attività edilizia del padre. L'imprenditore lascia moglie e due figli, un maschio e una femmina di 22 e di 18 anni. Sotto shock la famiglia che era in casa quando ha avvertito gli spari. Era invece separato da un anno cantoro, non aveva figli e prima di togliersi la vita avrebbe fatto esplodere una bombola del gas, tentando di dar fuoco all'abitazione del cognato, fratello dell'ex moglie. Sulla vicenda indagano i carabinieri, sul posto quelli di Francavilla Fontana, coordinati dal capitano Alessandro Genovese, con loro i militari del comando provinciale di Brindisi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle bombole del gas presenti. Una vera tragedia, Nicola era una bravissima persona, commenta il sindaco Giovanni Barletta. Ho pianto, lo conoscevo bene. Sconvolti anche gli altri parenti e i conoscenti. Nicola è ancora una bravissima persona, una persona che rimarrà nei nostri cuori perché era una persona per bene. Oggi è difficile trovare gente per bene. Ho tranquillo, un ragazzo bravissimo.